Ciao a tutti quanti ragazzi, qui è Vittorio Lopretto e benvenuti in questo nuovissimo video! Come state? Tutto bene? E' arrivato il momento di andare a realizzare qualche altro incantesimo fra quelli che mi avete scritto fra i commenti. E vi ricordo che i vincitori dello scorso contest di magia sono stati avvisati sui loro profili Instagram. Di altri invece non preoccupatevi che alla fine del video ci sarà un altro contest. Ma adesso partiamo! Il primo incantesimo è di... Dicevo, il primo incantesimo è di Giovanni Mele. Riesci a diventare invisibile? Allora ragazzi, dovete sapere che io sono riuscito a costruire una tuta che rende invisibili tramite del cartone. Guardate! Ciao! Vi piace la mia nuova tuta invisibile? E' fighissima! Come ci sono riuscito? Olio di gomito e un bel po' di nastro isolante. Il secondo incantesimo è di... Antonio Roberto. Qual è il nome e qual è il cognome? Trasforma una foglia in una banconota. Fin da quando ero piccolo però i miei genitori mi hanno sempre insegnato che... Ricorda che i soldi... Non crescono sugli alberi. Ma sui cespugli sì. Siamo ricchi! Il terzo incantesimo è di... Carlo... Yedi. Riempie una bottiglia di Coca-Cola tramite un'app del cellulare. La... Il cellulare forse è troppo piccolo. Useremo un iPad. E' finita la Coca-Cola? Non c'è problema. Vuoi sapere qual è il trucco e stupire i tuoi amici? Per saperlo devi essere iscritto al canale, mettere mi piace e seguirmi sul mio profilo Instagram. Io sceglierò come sempre tramite un sorteggio 100 persone tra quelle che hanno cliccato segui su Instagram e gli svelerò il trucco. A proposito, dimenticavo di dirvi che durante il periodo pasquale, che va da oggi fino al 18, tutti quelli che cliccheranno segui, io in cambio li seguirò. Tutti, tutti quanti. Ti sfido. Fallo adesso e dammi massimo 15 minuti e ti arriverà la mia notifica che ti sto seguendo. Grazie mille della visione e noi ci vediamo come sempre. Alla prossima. Ciao!